Le ricordate le nostre bietole selvatiche? Oggi cuciniamo le bietole selvatiche. Laviamo le nostre bietole in abbondante acqua e bicarbonato. Mettiamo a scolare. Dopo averle lavate e scolate, mettiamo in pentola ed aggiungiamo abbondante acqua. Mettiamo sul fuoco e lasciamo cuocere a fuoco alto. Appena comincia a bollire, aggiungiamo a volontà un po' di sale. Mescoliamo e lasciamo cuocere per circa 10 minuti. Nel frattempo tagliamo uno spicchio di aglio a pezzettini e prepariamo un po' di olio di oliva. Appena cotti, mettiamo le nostre bietole. In un recipiente di vetro o di ceramica. Aggiungiamo l'aglio. Un po' di olio di oliva. E mescoliamo. Ed ecco il nostro contorno di bietole selvatiche pronto per essere servito a tavola. A volte si aggiunge anche il peperoncino rosso, ma a me non piace. Gradisco così, semplice. Buon appetito! Grazie a tutti!